prova convertitore posizioniamo la leva cambio in n nel diagnostico inseriamo i parametri giri motore giri entrata cambio non c'è carico quindi la turbina deve girare quasi agli stessi giri del motore il massimo consentito di differenza sono 100 giri se molto inferiore o quasi nulli vuol dire che non c'è olio nel convertitore prova messa in trazione leva in posizione prova convertitore fase 1 leva marcia in n inserimento parametri nel diagnostico regime motore giri turbina marcia attuale stato frizione blocco convertitore slittamento frizione convertitore lo slittamento frizione convertitore è la differenza di numero di giri fra regime motore giri turbina questa prova la vado a effettuare quando non ho trazione nel veicolo ma nella fase proprio di messa in trazione quindi primo movimento